ciao a tutti ragazzi sono sergi aden e bentornati sul mio canale sono tornato sono tornato dopo tantissimo tempo sono tornato una nuova facecam una nuova macchina per la facecam in realtà è l'ephone 8 quindi non tanto macchina quanto apparecchio che svolge anche altre funzioni ma soprattutto ragazzi siamo tornati con i nostri pronostici sono tornato ho preso una pausa di riflessione no l'ho tornato perché avevo degli impegni avuto dicettesimo compleanno vacanze parenti eccetera eccetera ragazzi e youtube da impiego primario è veramente scivolato in fondo alla lista di cose che dovevo fare e quindi ragazzi adesso che riparati anche problemi a pc sono tornato con un po più di calma e riprendiamo piano piano la nostra avventura anzi anche con nuovi contenuti perché ho registrato tutto nel mentre far cry 5 e quindi però piano ad episodi ve lo porterò riprendiamo i nostri pronostici allora c'è una serie di partite nazionali e ho deciso di portarvi qui in inghilterra spagna con le rose con le convocazioni originali poi vi porterò portogallo italia ovviamente e poi si andrà sui club perché insomma ci sono alcune sfide molto molto importanti nei mesi di settembre e le faremo però su pes 2017 perché li ho aggiornato le rose a pes 2019 e quindi ragazzi a parte le divise le rose ragazzi sono tutte contemporanee quindi l'ultimo video con la fisca risale la rifondazione del milan lo scorso tipo 24 luglio e l'ultimo video l'ultima partita che abbiamo giocato se non è stata la carriera col benevento sono stati i pronostici della finale del mondiale ragazzi quindi ancora più indietro e oggi ho una voglia matta di ripartire del sondaggio l'ho pubblicato stamani non so come andrà a finire è avanti di poco la spagna però lo vedete lo vedrete accidenti e mongoli in sovra impressione perché ragazzi il tempo corre e non posso aspettare la fine del sondaggio per registrare questo video quindi andiamo alla gestione squadra ragazzi avremo De Gea in porta Alonso e Carvacal come terzini Ramos e Aspiliqueta centrali Busquets dietro e quattro Asensio a sinistra Suso a destra la novità Thiago e Isco centrali davanti Diego Costa comunque una panchina che ha la sua personalità con Morata Martinez Saúl Albiol del Napoli Roberto Nacciamo Real dell'Arsenal e Diego Llorente fatte queste cose formali Wembley Stadium l'8 settembre quindi domani sera alle 21 20.45 abbiamo messo l'orario 21 allora sono tornato nella mia solita posazione quella che voi conoscete e mi sento abbastanza perso mi sento abbastanza perso perché la tv è piuttosto lontana e di solito anche con i parenti ci si metteva a giocare tipo a mezzo metro dalla televisione perché la televisione è piuttosto grossa ma essendo piuttosto lontana fa un altro effetto e qui adesso vediamo un po' riabituare a questo schermetto piccolo siamo giocare con la PSP con alta grafica ovviamente vabbè godiamoci questo intro come sempre nell'intro mondiale avrei potuto però non ho preferito non tornare sulla modalità dei mondiali soprattutto perché su stato di parola ho detto la finale e pronostico di Francia Croazia sarà l'ultima partita modalità mondiale che vi porterò lo dissi in quel video lì cercate nel canale lo trovate poi magari chissà tra qualche anno li spunterà fuori di fa 18 come retro e chissà potrò portarvi qualcosa riguardo al mondiale appena passato avevo pubblicato un video appena post finale sulla reazione dopo la vittoria della Francia però ragazzi la FIFA me l'ha bannato la FIFA me l'ha bannato e quindi niente i video ragazzi e non sarebbe anche insomma cambiarsi le parti che mi hanno topato non sarebbe molto utile pubblicarlo adesso praticamente due mesi dopo caldo stamani è caldo è caldo come era caldo quando faceva i pronostici dei mondiali e nel frattempo ragazzi è arrivata la nuova mai del mina ragazzi è presa è un regalo di compleanno su facebook a veramente poco non vi dico prezzi perché non mi hanno detto seguite tutto calcio store ora non voglio fare pubblicità occulta però ragazzi vi consiglio quella pagina che porta i kit risultato finale a prezzi veramente bassi allora però mi sono informazioni mentre parlavo non l'ho letta però cominciano combattere ad in porta perché sono un po strano e pick for di 2080 è 77 perché ho messo tutte le convocazioni che ho trovato online c'è proprio le convocazioni adesso di settembre quindi su uso mondiale non l'ha fatto ma adesso c'è via ad inghilterra spagna ragazzi speriamo vada bene subito che in no kick of glitch no bravo coche spazza 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 da lì lingard fa dentro doveste essere vantaggio bravo ramo spazza dentro blocca degli a dieci minuti per ora l'inghilterra sta dominando ampiamente la parte pallone ottimo il possesso dentro devo costa palo palo da ragazzi già mi fa veramente e nervosire da subito fifa come si torna c'è niente è cambiato niente è cambiato tu è tutto bene va dentro dove c'è che in questo è calcio da questo è calcio non so lampi a me toccata il mio attaccante il loro attaccante questo non è fuori gioco meno male c'è disco che spazza a senzio allora senzio che non c'è un driblatore infatti c'è costa per la spagna disco devo costa diego costa ragazzi alleluia 26esimo 1 a 0 1 a 0 ragazzi diego costa sblocca sblocca ci porta momentaneamente avanti ma mai dire mai perché fifa lo conosciamo tutti com'è erroraccio erroraccio palla dentro bravissimo forse ramos forse a spilicueta non lo so quanto sta che la spagna l'inghiterra adesso inizierà a pestare come un macigno bravissimo ramos crevi palla lingard recupera a senzio libera suso suso solissimo trentacinquesimo trentaquattresimo cosa sto leggendo trentaquattresimo 2 a 0 contro piede catenaccioso fino all'inverosimile tiro a giro la specialità del nostro suso anche se la maglia questa è del pipita che però ci porta momentaneamente sul 2 a 0 veramente non gli assomiglia per niente suso non gli assomiglia per nulla però l'abbiamo fatta ad andare ma meglio gli occhi sul 2 a 0 e a mettere diciamo mezzo piede l'allana verso il controllo della partita c'è il Diego Costa il Diego Costa il Diego Costa sul fondo bravissimo 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 butland telling paurosa questa palla per Kane paurosa e pericolosa di testa bravissimo De Gea repentino la leva di lì palla per Kane palla per Kane va sul fondo Ramos senza neanche spazzare è bello questo passaggio che riesce ad arrivare a Tiago e poi il Diego Costa fa una mezza cappellata e gli lascia la palla a che dove è Guayer ma c'è ancora il difensore De La Madrid Sergio Ramos si va a riposo 2 a 0 3-3 partono per noi gol di Diego Costa e Suso adesso voglio fare voglio proporre una cosa un 4-4-2 Suso a destra isco a sinistra leviamo a Senzio e mettiamo Morata vediamo ragazzi cosa se questo inserimento di Morata del colo 84-84 potrebbe portare dei frutti oppure solo facci pentire comunque c'è una punta lenta che è Diego Costa e una punta veloce che è Morata che adesso ha la palla e la spreca malamente insomma non è che potesse fare più di tanto attenzione a questo questa imbucata vediamo se riesce anche a evitare in angolo il nostro Carvacal allora via Diego Costa non può fare spazio ma se ci fosse qualche anima buona che partisse invece che così vieni a buttarla addosso all'ingard e allora Isco Isco la mette in mezzo la mette in mezzo però non c'è nessuno se non maglie bianche a parte quello che l'ha lisciata però c'è Morata Morata però Morato quindi parte in contropiede l'unica cosa che riesce a fare adesso l'inghiterra è proprio ciò proprio il contropiede con l'ingard sulla sinistra vediamo cosa si inventa cosa si inventa Carvacali invece gli leva a palla la riparte il foletto di Cadice Suso Diego Costa la palla non te la do piuttosto la perdo così e sono felice attenzione a Sterling sulla destra potrebbe metterla dentro per il gol per il gol di l'ingard qui quando la difesa si bagga così tu sai già che prendere il gol allora io per farli questo dispetto metto già la difesa ad oltranza al tesano tresimo perché come disse Gattuso meglio 1-0 che 2-1 Isco Morata Tiago ancora lui ancora Isco non molla Morata Murato Morata Murato una Derry Kane uh come è passato è ancora Spiliqueta via il contribere per la Spagna Morata in bocca Suso non può recuperarlo Rose Suso si allunga la palla la mette nel mezzo e la spizzata ottima di Stones credo sia stato Stones per Tiago Alcantara per Tiago Alcantara c'è sul posto difensore Morata incrocia bravissimo Batland ecco la gufata ecco la gufata di Pardo che ha detto che diminuiscono le possibilità per la squadra di casa di trovare il pareggio però c'è Morata questi ha messo l'attacco totale c'è Morata che non può dribbrarsi 5 difensori prima erano 3 adesso sono 5 dell'Inghilterra sbaglia tutto Diego Costa che a parte il gol Diego Costa ragazzi ha sbagliato tutto anche Costa non doveva sbagliare l'ha sbagliato ma ragazzi va bene così 2 a 1 risultato che per me ci sta perfetto impacchettato e consegnato risultato che è più plausibile forse non i marcatori però partita piuttosto tranquilla senza troppe ladrate di FIFA come ormai dai mondiali siamo abituati a vedere guardate ancora il pronostico di Brasile e Messico ce l'ho ancora qui vabbè ragazzi guardiamo adesso le pagelle migliora in campo Thiago 9,5 ti riporta 4-2 per la Spagna terminiamo la partita ragazzi noi ci vediamo per Portogallo Italia senza Cristiano Ronaldo perché ha annunciato e lo ricorderò anche nei video che per rispetto non giocherà per la partita contro l'Italia via un saluto a tutti grazie alla visione alla prossima state connessi che adesso piano piano si ricordano tutti ragazzi grazie alla visione grazie a tutti